si vabbè però che parla candelabana e ora per mille dollari e per questa sacca di flebo in grado di farla sentire come si avesse di nuovo solo 190 anni a pelle figlio da pollo fece una palla di pelle di piselli mi spiace signor bober la risposta giusta era pollo purtroppo a pelle figlio di apollo fece una palla di pelle di pollo apollo piccolo stronzetto dell'olimpo figlio di zeus e di leto sì il fiume sì sì certo il fiume e ho la tona meglio conosciuta fratello di artemide e noto frequentatore di bar gay e no forse l'ultima no apollo mitologicamente il dio di ogni mattina il suo carretto il sole caricato sul carretto il sole che sale in cielo e apollo che se lo porta via la sera che bello qui possiamo vedere apollo in alcuni dei tanti scatti raccolti nei vari anni da vari fotografi quando non porta a spasso il sole apollo è anche il capo si può dire così delle muse così che la maggior parte delle sue immagini lo fanno vedere con un'arpa in mano perché lui lui rock on tra l'altro è l'unico dio il cui culto e il nome sono rimasti uguali fra la transizione romano greca ok quando i romani hanno preso tutta la bellissima cultura greca hanno tenuto apollo come apollo perché gli piaceva tanto dire la pelle figlio d'apollo fece una palla di vera mica puoi migliorare comunque la perfezione uno dei miti più conosciuti di apollo è sicuramente quello di apollo e dafne dunque i protagonisti sono apollo ovviamente dafne una ninfa che tranquilla e beata se ne stava a farsi gli affaracci suoi e eros beh eros è l'equivalente greco di cupido quindi più o meno siamo lì insomma un giorno apollo dice a eros oh ciccio scansate che passa il più figo del colosseo decantando come lui a soli quattro giorni dalla nascita avesse ucciso il gigantesco serpente pitone mentre eros non avesse combinato una ceppa di cui chiacchierare purtroppo apollo era famoso per essere un po lento a capire le cose quindi quando la gente gli diceva guarda che sto pitone si è ingoiato la freccia con cui giocavi per sbaglio non l'hai niente niente apollo stava lì a cantassela di in giro che sto pitone l'aveva ammazzato lui a quattro giorni che piaga di fio vabbè insomma eros è un po confusa riguardo il colosseo visto che in effetti di lì a poco sarebbero stati tutti venerati dai romani e gli dei sono onniscenti quindi figurati se non s'erano calcolati che il giorno dopo avrebbero fatto colazione con la coda la vaccinara invece che con lo tazzichi insomma dice ah sì famo così vabbè mo te fa vedere io e vola a prendere una freccia per fare innamorare Apollo e una per schifare l'altra persona che indovinate chi è bravi bravi stappora disgraziata di Daphne sì questa stava lì tranquilla a fare cappuccetto rosso nei boschi e ammazzare le madri di bambi e boom arriva Apollo tutto ingrifato che inizia a urlare Daphne a Daphne oh Daphne ti voglio mangiare tutta Daphne insomma beh Daphne era una signora e sapeva che Apollo non è che c'è stava proprio tutto 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 con la testa e insomma inizia a scappare e scappa e scappa ma Apollo c'aveva tre gambe mica due insomma a quel punto e poi c'aveva pure la terza skill che era una scivolata quindi niente proprio non mi poteva scappare insomma prima o poi sta Daphne si sarebbe ritrovata sto qua attaccato alla gamba come manca un chihuahua in calore allora la madre terra che lei sì che c'ha sempre la soluzione giusta impietosendosi della sorte di staporetta la trasforma in un albero a lei così chiamalo problem solving e così mentre Daphne strella ma tu non te potevi fare i cazzi tu diventa un bellissimo albero chiamato al lauro o all'oro Apollo vede tutta sta scena ingrifatissimo e quando la raggiunge sta Daphne lì per lì ma cosa accorge che ormai è un albero e appunto dal gesto di Apollo distrusciarsi violentemente nudo contro l'albero che nascono le due espressioni pan sessuale a braccialberi no bambini no non è vero però certo che questo stava cercambuco nella corteccia come i clienti generosi passeggianti di viaggiolitti ecco credo ora abbiamo una completa visione del soggetto in questione andiamo avanti su smite Apollo rispetta più o meno tutto quello che ci si aspetterebbe da lui belloccio senza barba giovane divertente veloce rompipalle e a braccialberi oddio forse no quello in effetti no Apollo è stato il primo dio con cui ho avuto un feeling e avendo presso che tutto movimento, uno stun per scappare e aiutare nei team fight un clear per le wave di minion che clear significa pulire wave ondata minion i poveri cristi che crepano a ruota per darvi esperienza e stare lì a camminare in linea retta mentre Zeus li fulmina e un ulti tra l'altro che funziona sia per entrare velocemente in un gank sia per scappare alla velocità della luce da situazioni poco piacevoli inoltre è sicuramente uno dei personaggi più interessanti a livello estetico ed è documentato che se la faccia con maschi e femmine e pure alberi quindi non vi disdegna sicuro insomma niente che gli fate schifo se butta via niente insomma è come il porco e insomma vi disdegna sicuro anche se siete dei pezzi di legno a letto sebbene sia imminente una pace che cambierà molte delle cose dette di seguito come ad esempio l'ultimate di Apollo che non sposterà più i bersagli dove cade più o meno lo stile di gioco e gli oggetti rimangono quelli anche se comunque i consigli sono da considerare sempre generali e doverste poi adattarvi da soli alle varie situazioni la sua passiva ad esempio è piuttosto ben disposta verso i nuovi giocatori in quanto ogni 5 colpi andati a segno avrete qualche proiettile con un boost un bonus del 100% alla velocità di attacco che vi permetterà di fare qualche danno in più a patto riusciate a mirare fondamentale per quanto odio ammetterlo al di là dell'essere un ottimo dio per quasi tutto Apollo è anche uno degli dei che non solo ho visto più spesso sottovalutato ma anche giocato spesso da persone che non hanno senso del team che non sanno spesso collaborare che se gli va bene prendono avanti con Apollo se no poi fidano e si lamentano che hanno un brutto team perché giustamente quando loro vincono è merito loro e quando loro perdono è colpa della squadra che sia casualità o modo neofita per giocare un Hunter questo non lo so ma è una realtà il fatto che ogni volta che vedo un Apollo mi preparo psicologicamente perché statistica vuole che sia una testa di minchia 90 su 100 con il 100% di probabilità che sia preso la skin da gente perché gli ricorda uno shoot in terza persona le skill o le abilità la sua prima skill è molto museale ed è una tirata di corde all'arpa che crea una specie d'onda d'urto che viaggia per un po' facendo danno in linea retta e questo ricordate il suo wave clear la sua seconda skill è un ottimo aiuto in team fight un ottimo modo per scappare mentre siete inseguiti è anche un'ottima iniziazione, un self boost prima di attaccare e anche un'ottima rottura di coglioni cantando Apollo mesmerizza il nemico e che significa mesmerizza? parla italiano? ah no scusa essenzialmente lo stordisce finché non prende danno e purtroppo anche i minion ne contano quindi no quei pensieri che vi state facendo lussuosi dell'ok lo stunno e lo faccio ammazzare i minion no ed è uno di quegli stunne che si concatena agli altri una cosa che vi spiego al volo ma che vi sembrerà lì per lì complicatissima anche perché non è poi così utile sapere però è la sua effettiva utilità mano a mano che è andata avanti ogni cc detto crowd control ovvero controllo della folla che riceve quindi ogni cc che riceve un personaggio entra in una coda tranne gli effetti knock up e banish in modo da evitare che un personaggio sia bloccato dagli avversari fino alla morte dell'anima oltre che del personaggio il primo effetto cc si applica quindi per la durata intera che vedete scritta sulla skill la seconda abilità conseguente mentre ancora stunnato si applica per due terzi della durata originaria e quella dopo ancora un terzo soltanto essenzialmente è un meccanismo per evitare di rimanere intasati in una combo di cc da uno o due secondi ciascuno quindi pensate tipo che ne so Apollo vi stunna arriva Ymir mentre siete ancora stunnati che nel frattempo si è fatto tutta la lane vi stunna un'altra volta lui quindi sono altri due secondi di stun poi arriva che cazzo ne so c'è NG con l'ulti altri due secondi ok non so no no inoltre oltre a questo la seconda skill di Apollo gli garantisce protezioni da 10 a 50 seconda del livello per ben 5 secondi la terza skill di Apollo è sia un'ottima finisher che un'ottima escape non che in una maniera molto kamikaze suicida un'ottima iniziazione con un danno simile a quello della sua prima skill a fine scivolata che fa un effetto molto rock and roll i nemici intorno vengono scansati un po' di lato aggiungendo per ogni nemico colpito una carica alla sua passiva ok quelle lì le cariche quelle che poi vi fanno sparare velocissimo e diminuendo la velocità agli altri insomma facendo un debuff di velocità ai nemici aumentando invece la propria quindi baffandosi e quella degli alleati per ben 2 secondi accidenti insomma sarà la vostra ancora di salvezza e anche il modo in cui probabilmente farete la vostra entrata trionfale prima della morte prematura l'ultimate invece è qualcosa probabilmente la userete per raggiungere velocemente qualche luogo nella mappa ma potreste anche volerlo usare come una disperata fuga che è più probabile anche se c'è da dire che il tempo che ci mette per essere lanciata è in effetti abbastanza per morire da un gank di due persone ma anche uno volendo entrando in fight a bordo del vostro bolide e lanciandovi in mezzo al alla mischia farete un danno ridicolo e quasi insignificante fino a che non ci sarà la patch prossima che è proprio a breve potrete lanciare via i nemici ma dopo la patch manco quello farete più vi ritroverete in mezzo al team fight con le vostre mani cariche quindi come dovreste giocare Apollo lo dovreste costruire sulla velocità d'attacco sui critici sul cooldown essenzialmente ogni modalità ha la sua personalmente ad esempio non vedo Apollo un buon dio d'arena per via del fatto che comunque la sua ulti è limitata ad essere un knock up molto blando in arena questo prima della patch perché poi l'ulti manco farà più knock up oltre che a vederla 5000 anni prima perché è tutta dritta all'arena quindi se qualcuno sta su un carro per aria forse io lo noto però vabbè non è detto e il danno che fa diciamo al di là delle skill di tutto è quello di qualsiasi hunter qualsiasi altro hunter che però magari a differenza di Apollo ha qualche area d'effetto che ne so tipo nit che ne so tipo cupido o comunque una qualche cosa più utile del semplice bam 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 ok inoltre verso la fine della partita tutti gli hunter o comunque la maggior parte raggiungeranno una velocità d'attacco in grado di poter competere con la vostra passiva quindi anche quel vantaggio andrà un po' a farsi benedire certo è ancora una scelta possibile Apollo in arena vi costruite un sacco di critici un bel po' di life steal cioè ad esempio una possibile build potrebbe essere che so le scarpettine warrior tab asi perché in arena non le farete mai le stack per il devurer gauntlet i kinsai il deathbringer e poi a scelta rage o malice dipende da cosa vi piace di più in realtà il rage vi assicura un critico ogni 5 colpi non critici però la malice vi dà più forza fisica e comunque vi lascia con una possibilità di critico dell'80% ok e poi come ultimo oggetto insomma situazionale magari una jotunsvrat per il cooldown o che ne so un oggetto come la magis blessing o che so il void shield che ne so nel caso di assassini che vi prendono di mira e più che altro per cercare di tirare fuori il massimo del danno anche da situazioni improvvise di un teamfight inaspettato un gank o una situazione dove vi ritrovate con essenzialmente poco mana magari direi comunque di evitarlo in una situazione da arena perché comunque in ogni caso non lo state usando al massimo del potenziale ovviamente in joustable è già molto più affidabile su tutto una lane soltanto la possibilità di usare il carro sia per tornare in base che per partirci ed arrivare subito in teamfight qualche straccio di giungla per farsi un po' di esperienza extra insomma c'è un po' di tutto continua ad essere secondo me piuttosto underpowered in quanto l'ultimate è studiata appositamente per organizzare gank e con una lenzola non è esattamente la cosa più assurda del mondo che arrivi a pollo all'improvviso cioè nel senso si sa che c'è a pollo in gioco e volendo si vede nell'80% dei casi a meno che non riesca ad entrarvi da dietro le spalle o comunque direttamente di lato e poi comunque in ogni caso lo sentite quindi lo sentite avvicinarsi quindi non è proprio invisibile una build ottima per il joust è più o meno come quella che ho descritto sopra ma magari con un devurer gauntlet al posto dell'asi in quanto le stacche in joust avrete sicuramente più possibilità di farle a differenza che in arena come oggetti attivi sia in arena che in joust vi consiglio di vedere cosa avete contro e organizzarvi di conseguenza ricordate che durante l'ultimate mentre partite siete immuni ai cc quindi per dire con una blessing l'ultimate e i beads avrete semplicemente spento qualsiasi cc vi tirino contro tranne erari casi il secondo oggetto sceglietelo in base alla situazione invece non partite mai con per dire meditazione blink meditazione beads beads e scarpette ok cercate sempre di vedere com'è la situazione potreste prendere le beads appunto che riducono di 5 secondi a livello massimo il cooldown dell'abilità però il secondo oggetto non può che essere qualcosa di dipendente dalla situazione imparate cosa vi serve a cosa a questo proposito in si gecon questa polla è dove veramente è Apollo è la bestia feroce che tutti dicono che è overpowered con l'ulti non solo potete entrare in teamfight ma potrete anche fare quella che viene chiamata split push ovvero spingere su una torre dare una o due bot di danno alla torre per far accorrere gli avversari poi usare il carro ed andare alla torre dal lato opposto che si suppone sia sguarnita specialmente se vi siete diciamo organizzati con la squadra per fare lo swap di lane o comunque la doppia pushata di torri o fenici insomma chiamatelo poco per l'ordine con cui dovreste alzare le skill o l'ordine degli oggetti ho sempre trovato molto più sensato sentire proprio come ci si trova meglio con queste cose per dire io su cupido a seconda della situazione alzo prima i cuori diciamo i cuori che si buttano per terra per curarsi che la freccia bomba anche se in ogni guida leggerete che dovreste alzare prima la bomba per una raze migliore e questo è cupido Apollo che ne so magari potrebbe capitarvi che volete alzarvi prima lo stun piuttosto che la prima che è il wave clear anche se io consiglio caldamente il wave clear specialmente se siete in joust personalmente trovo che l'unico vero ordine che dovreste seguire con Apollo è quello di costruirvi scarpette per la velocità e lifesteal per insomma per sostenervi qualsiasi sia la modalità Apollo è vulnerabilissimo al danno e anche i poke cioè quelle abilità fatte diciamo per darvi fastidio più che per farvi danno vero rischiano di esservi fatali più o meno fino a metà partita l'unica cosa che vi consiglio di fare a prescindere è veramente quella di alzare il più velocemente possibile la 1 se volete assicurarvi di rimanere in lane o la 2 volendo se vi ritrovate in troppi team fight troppo presto e volete insomma assicurarvi che non ci crepate teoricamente non dovreste creparci questo era Apollo che era il padre di Apelle figlio di Apollo che fece una palla di pelle di pollo e tutti i veci veneranno basta 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 noi ci vediamo al prossimo video se voi avete un modo particolare qualche build particolare o avete addirittura paura di quale sarà la build con la nuova patch visto che aggiunge un sacco di oggetti e modifica un sacco di idee boh potete pure lasciare un commentino non è che si offende nessuno noi ci vediamo al prossimo video e ciao